Sono Laura Arconti, sono qui per chiedervi di iscrivervi all'associazione Radicale Certi Diritti. Io sono iscritta, io sono omosessuale, ma vi potete iscrivere anche se non lo siete, vi diamo il permesso. Guardate la Litizzetto, guardate Emma Bonino, guardate Rita Bernardini, loro non sono omosessuali, sono iscritti anche loro a certi diritti. Si tratta di una battaglia epocale, essere tutti uguali nei diritti di fronte alla legge. Grazie a tutti.